Si dai dai ditelo ditelo eh non ti tagli mai i capelli e non ti cambi mai i vestiti C'è questo addosso da una settimana Ragazzi allora c'è un problema di fondo Chi vive da solo ok Non fa mai un cazzo di quello che ti fa fare la mamma Quindi c'ho la casa che è un casino C'ho il letto che è disfatto e non lo state vedendo grazie a dio C'ho la pattumiera sparsa per la cucina Non mi vesto e non mi taglio i capelli Non cagatemi bene non siete mia madre Bella lì Dopo questa premessa pollice sul video grazie Tanto lo so che mi deve fare incazzare sta roba Comunque è piaciuto tantissimo il primo episodio di CapEd Dai che sono carico come lo schifo Va bene ragazzi siamo andati su CapEd Dovremmo rimasti l'ultima volta Mi pare che fosse questo non vorrei dire una cagata Va bene Ah che bello Vedevo l'ora giuro Piano non mi ricordo manco più i tasti Un attimo Succhia No raga comunque io ve lo dico sto gioco secondo me è l'inferno Io non ho mai visto una roba fatta così Come come lo dovrei schivare spiegami come lo dovrei schivare dimmelo Che sta facendo Che fa Ero a metà Ero a metà Ma tua madre zoppa bifolca Poi diventa gigantesco e fa la stessa porca vacca schifosa di cosa E ci metto un'ora e me Come lo schivo Lo vedi che ti muore la sorella di epatite Come faccio a schivare un pugno che vale metà schermo Non posso passar lì sopra perché non si può Non posso passar lì sopra non posso fare niente No raga no Cioè non ci arriverò Non ci arriverò mai più qui ve lo dico E' morto non è morto Non è morto E' morto Non è morto Non è morta Non è morta Non è morta Quanto dura Quanto Quanto dura un boss così Un'ora e mezza di boss Raga è incredibile Cioè vi giuro sta durando una vita Da vero Ma come si è scassato il joystick Dai Ragazzi un altro joystick Quello da Play 4 Sì vabbè però non è possibile Mi sono ricordato di averne un altro di riserva nel cassetto Nuovo Grazie a Dio E' uno di quelli scavosi col cavo sempre Però vabbè E' già qualcosa Bene No 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 Perché mi colpisce quando mi do di colpire Perché c'ho solo qui C'ho solo più sto joystick Solo più questo Perché arrivo sempre alla fine Cristo Ragazzi vi rendete Vi rendete conto di quanto è difficile questa roba Cioè vi rendete conto di quanto c'è un nuovo E non vi rendete conto perché io taglio Però porca vacca l'Aida Cioè veramente dai Ci 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 tua sorella ci Vai via Basta Non voglio più vedere sta roba Cioè veramente una Ma proprio Guarda Lascio a perdere Cosa devo fare Aero plane blueprint Cosa vuol dire Shoot special Ah C'è poco solo su un aereo Ah che figata Spero non sia un boss almeno E' un boss Sempre boss Ma in sto gioco qua Ci sono solo boss in sto gioco Quindi ah devo battere tutto sull'aeroplanino Wow Ah faccio un gazz Eeeh Quindi La presunzione è che non arriverò neanche a metà livello Però Vabbè Un livello facile insomma E' difficile ma secondo me potrebbe essere fattibile Secondo Poi magari non è così Però Mio dio Oh mio dio Aiuto Cosa dovrebbe rappresentare Ho una vita da un'ora e mezza tra l'altro Non ho ancora L'ho detto eh raga L'ho detto Attenzione Ma vuoi durare qualcosa come sei ore Come boss Mica è un'ora che li sto sparando Quanto dura sto boss Cioè vi giuro è un'ora che sto andando avanti Basta No ci metti in avanti Dove è tutto No no Non è un'ora Figurati Secondo Secondo me devo aver paura Però non è detto Oh raga Ho una vita da sei ore E beh per forza Mica Era un'ora che resistevo Avevo una vita più o meno Dalla prima sticella Praticamente Cioè incredibile Non so neanche come ho fatto Ma cosa dovrebbe rappresentare Mi cappuccetto rosso Su un monociclo Cioè cos'è sta roba Orca vacca Mi sta beccando Cos'è Ma non c'era prima questo Ma cos'è Aiuto Ma è cupido Ma come Non c'era prima Ma quindi sono random Le trasformazioni Ok adesso c'è la trasformazione finale In luna di Sta minchia Ok concentrazione Raga alla fine Concentrazione Che ho tutte e tre le vite ancora Perfetto Ne ho due Perfetto Ne ho una Madonna cosa ho schivato Potresti morire Per cortesia Knock out Knock out Non è possibile Voglio sempre alla fine Voglio sempre alla fine Tutti i boss Se fossi qua da solo E non davanti a una webcam E quindi davanti a 4 milioni di persone Io vi giuro Il monitor era già per terra Dai boss Sembra quasi un gioco per bambini Mica se non ti facesse salire il crimine Ma non li puoi neanche distruggere gli UFO Ah vabbè ragazzi Incredibile No 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 Io mi rispetto categoricamente di giocare a questo schifo Non ce la posso fare Ve lo giuro Io spacco qualcosa Cioè non è Ve lo giuro sto mal Basta Ma tanto rinizio Cosa continuo così tanto Eh Vuoi aprire la barra di gioco Non voglio aprire Tua madre Tua madre Come li scrivo i dischi volanti Come li scrivo Come li scrivo i dischi Come Come li scrivo aiuto aiuto Come li scrivo Come li scrivo Vaffanculo 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 Un'ora di diverso Un'ora Un'ora C'ho messo No Da quanto ho capito Sono tutti boss Non ho fatto mai un livello normale Tranne il primo Ma credo fosse il tutorial a questo punto Run and gun Ecco come l'ho detto Adesso questo è un livello normale Lo sapevo Eh Vabbè Quindi ci sono anche i livelli normali Ma sono Molti più boss Che i livelli normali Quindi Ok Cioè vi giuro Sono talmente abituato a stare fermo Per battere i boss Che non mi ricordo Come ci si muove Madonna cosa ho schivato Cosa ho schivato Aiuto Cosa sto schivando Cosa ho schivato In tutto questo Un casino ho fatto Aiuto Ecco Ma non scrivo più niente Porco il demonio Porco Porco Ah Ho preso Ho preso Non morire Non morire Che hai tutte le monete Ho tutte le monete praticamente Non devo morire Mai No 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 Non era il finale Mancava ancora un'ora e mezza Prove Io sta parte qua Prima l'ho schivata Per miracolo Cioè non potrete veramente pensare Che ogni volta Mi vada di culo così No 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 ragazzi Ragazzi veramente Non ci stiamo capendo Ve lo giuro No no Madonna 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 Porco il demonio Cosa mi ha colpito Cosa Non c'era niente Lì sotto Non c'era niente Che mi ha colpito Non mi ha colpito Nulla Cosa Ma siete stupidi No 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 Vaffanculo E non metto neanche l'outro Boh così Non mi ha colpito Non mi ha colpito Poi Non mi ha colpito